Ben trovati! Preparati gli ingredienti andiamo alla ricetta. Salsa di pomodoro, trito di peperoncino e aglio più qualche pezzetto intero, tubetto di concentrato di pomodoro, spaghetti, olio extravergine di oliva. In un pentolino andiamo a preparare il brodo. Mettiamo 500 ml di acqua e il tubetto di concentrato di pomodoro. Io ne ho usato metà. Andiamo a dare una mescolata con un cucchiaio di legno e portiamo a bollore il liquido. Intanto in una padella molto capiente andiamo a preparare il fondo di cottura perché la pasta andrà cotta a crudo. Mettiamo tutto l'olio, il trito che abbiamo preparato con peperoncino e aglio più due pezzetti interi dal totale della quantità e facciamo soffriggere a fiamma vivace per qualche minuto. Spegniamo, andiamo a salare il brodo e attendiamo che bolla. Quando ha iniziato a bollire spegniamo. Andiamo a mettere il sugo nel fondo della padella, diamo una bella mescolata e quando inizia a bollire andiamo a mettere la pasta mettendola per il lungo ben distesa di modo che la pasta vada ad assorbire piano 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 il fondo di cottura. Diamo una bella mescolata senza far rompere gli spaghetti e andiamo ad aggiungere il brodo mano mano che gli spaghetti cominciano ad assorbire il liquido continuando sempre a mescolare per non far attaccare la pasta. Il liquido che abbiamo preparato in precedenza lo andiamo ad aggiungere poco per volta. Un mestolo alla volta mettiamo il liquido nella padella con la pasta. Diamo una mescolata distendendo bene gli spaghetti nella padella e continuiamo la cottura a fiamma bassa. La pasta va allargata per bene altrimenti non assorbirà il sugo uniformemente. facciamo sempre attenzione a non far attaccare sul fondo e quando il tutto il liquido è stato assorbito andiamo ad aggiungerne altro e continuiamo con questa operazione fino a portare a cottura la pasta. Sempre mescolando e distendendo per bene sul fondo di cottura. se occorre aggiungiamo il liquido e portiamo a termine la nostra preparazione. Mano mano che andiamo ad aggiungere il liquido continuiamo a mescolare rivoltando gli spaghetti sotto sopra per far assorbire uniformemente il liquido. Vedete come faccio io? Mano mano che asciuga aggiungo il brodo preparato prima. Andiamo ad aggiustare il risale e una volta che la pasta è giunta quasi al termine della sua cottura la distendiamo per bene nella padella e facciamo fare la crosticina un lato per volta. Facendo attenzione a non far bruciare il fondo l'andiamo a rivoltare ogni tanto la lasciamo ben distesa nella padella e continuiamo la cottura per fare formare la crosticina dando il tempo necessario all'operazione. Una volta che la crosticina si è formata da un lato il liquido deve asciugare ma non bruciare la pasta giriamo sotto sopra e facciamo fare la crosticina dall'altro lato. E la nostra ricetta è terminata. Buon appetito! Spero che la ricetta vi sia piaciuta lasciatemi un like condividete e se non lo avete fatto iscrivetevi al canale. Io vi aspetto per i prossimi video. A presto!